Questa è la borsetta degli smalti Ciao, grazie di essere qui con me oggi Mi vedete forse molto carica perché è il primo video che registro dopo essere stata via Dopo essere tornata, sono tornata giovedì sera ma oggi è domenica E i video che avevo girato fra un viaggio e l'altro ne avevo girati non nello studio Quindi è stranissima, più di un mese che non c'ero qui Oggi come avrei letto dal titolo pensavo di rifarmi lo smalto perché comunque avrei dovuto farlo Queste sono le unghie che mi sono fatte quasi tre settimane fa Sì, tre settimane e mezzo In Thailandia ho pagato 12 euro mani e piedi E' una roba assurda E' durato tantissimo, ovviamente, però c'è la ricrescita E quindi era decisamente ora di farmi lo smalto E so che questo contenuto è apprezzato anche se semplice Ed è un buon compromesso fra suoni e voce e intrattenimento Prima di andare a togliermi lo smalto vado a farmi un piccolo scrub alle mani Giusto per, soprattutto per i suoni in realtà E mi tolgo i linelli quindi perché non ce l'ho pensato Ma che? Come scrub Vado ad usare questo della Lush che è un bagno schiuma scrub Per questo volevo usarlo perché è entrambi E fa un suono bellissimo E ha un profumo pazzesco E... Avrei anche uno scrub adatto alle mani ma non lo trovo in questo momento Vado a usare questo Si chiama Orange Orange E... E' la versione media Non forse grande 330 grammi Però posso dire costava 16 euro Però ho preso perché non ho nulla di Lush Si è seccato Seriamente? Ok Ok E... 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 Ha un odore... Raga paradisiaco Sa di aranciata E' una roba... Sa di... Fanta E' una roba... Ok Sulla sopravvigia si è seccato o no? Ok cerco di non usarne tanto non ne sarò neanche tanto vedete com'è fatto? è molto bello vedete 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 e appassi che sale marino ed è molto piacevole e una volta è sformato per bene ha contatto con l'acqua a schiuma perchè appunto anche un bagno a schiuma ditemi nei commenti da dove state guardando questo video se siete in vacanza dove e siete a casa non siete in pausa lavoro no 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 lo vorreste un altro video di manicure? vorreste con una modella tipo a role play su di voi magari con delle mani tipo un manichino non ho pensato che passeremo c'è un profumo di arancia che non vi dico incredibile adesso passo un pochino l'inquadratura per riprendervi soprattutto le mani eccoci qua quindi primo step un po' di sale sulle unchi bellicchi vabbè se lo trovo lo tolgo cominciamo togliendo lo smalto questo è un solvente senza settore della Sienna della Lidl la Lidl come si può rincerlo sono un link con DUNE la Lidl la Lidl la Lidl e si usa praticamente mettendo il cotone qui sopra e premendo come cotone non ho i dischetti, ho questo che è medico ma va bene lo stesso io ho praticamente sponsor della Siena anche vado al litro spesso, vado al litro spesso perché lo spesso abbastanza frequentemente perché hanno molti prodotti vegani che prendo regolarmente un po' sono molto particolare il cotone ok, allora, quindi si preme così bisogna premere un po' di volte e comincio prima premendo un po' magari faccio anche un po' di zoom prima premendo un po' prima premendo un po' e poi gratuiamo non ho mai avuto gli unchi di questa forma però devo dire che mi piacciono a parte l'esitazione iniziale mi piacciono quindi premo un po' tiro e poi tolgo il resto ha letto veramente bene ci devo dire che siamo state praticamente due ore lì ho messo 3000 strati base, mica base, sopra, topper pronto che prova ok farò un po' cambio a cotone dopo andiamo a scegliere lo smalto se fosse la diretta lo sceglieranno insieme non lo è non lo è potevo farlo scegliere su Instagram ma ormai è tardi non faccio il tempo prossima volta ok mi hanno lasciato praticamente residuo quindi unghie senza e unghie con sapete che sono belle anche senza smalto devo dire quasi quasi mettono smalto trasparente non lo so che dite? che dite? che dite? cosa dite? no dai mettiamo un smalto colorato però vediamo ok eccoci ah cambiamo fun fact non mi ero non mi ero non mi ero mai fatta fare le unghie da qualcuno neanche per il mio matrimonio me le ho fatte io e però devo dire che non mi ha dispiaciuto cioè pensavo che lo smalto durasse di meno però se può durare anche due settimane facendomelo fare ci posso anche pensare perché perché ogni volta se ne andate ho lo smalto messo un po' a cavolo ce l'ho messo a cavolo però sempre speccato perché non riesco a stare fermo quindi questa è la borsetta degli smalti quindi sono quasi tutti Essence o Kiko Essence Kiko che può può partiamo dal dallo smalto trasparente sotto questo uso questo della Kiko della collezione Power Pro Nail Aquare non della collezione ma della linea e questa linea della Kiko mi piace tantissimo la trovo molto di qualità e in questo periodo secondo me a settembre fanno sempre una promo tipo prendi 3 paghi 2 non mi ricordo prendi 2 paghi 1 e quindi faccio sempre scorta vediamo vediamo se riesco ad azzeccare in un momento anche quest'anno qui ce la provo ok e come in la base questa non so se sia una base o un top per onestamente io ammetto che a volte non ammetto la base l'ultima volta che mi ha messo lo smalto avevo degli aloni giallissimi orribili sulle unghie ho detto no ascolta adesso me lo metto perchè erano veramente brutti infatti la ragazza lì quando mi ha fatto le unghie le unghie sono gialle e gli ha detto chi te le ha fatte? vabbè no me le son fatta io infatti mi aveva grattato via il giallo è stata molto brava perchè poi l'inghie non si sono rovinate ecco bene 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 si cioè sono leggeramente ma secondo me è più lo scrub che lo smalto allora sono quasi tentata di mettermi uno smalto semi trasparentino tipo questo qui è sempre della Kiko power pro nail eccetera adoro questo topping questo ve lo ripropongo questo topping magari anche in live e questo è il numero c oddio ma qual è il numero? questo in alto questo in basso è il è il 301 e sto pensando ne metto solo oddio stradino per dare un minimo di colore aspettiamo dai di solito di questo ne metto tre strada un colore nude molto molto piacevole secondo me elegante da vedere ok mi metto un pochino lo zoom per lo smalto secondo me è carino ci sta cosa dite? ne ho messi diciamo due strade leggeri guardiamo guardiamo qui vedete così e carino ci sta c'è qualcosa qui è tutto carino guardate secondo me secondo me ci sta perchè è semi trasparente ma elegante perchè comunque sottolinea sono curate ok se non posso casino che cos'era? la mia panza? che vuole sempre partecipare ai video? ok ok bella bella piacciono eleganti la mia panza la mia panza la mia panza la mia panza questo è troppo per il migliorino ok non mi ha mai vista le unghie di questa forma adesso aspetto un microsecondo che lo smalto si asciughi per non fare troppi danni mettendomi lo smalto sull'altra e ma vedete già faccio danni perchè ha limato tantissimo qui c'è proprio tantissimo e le vedevo troppo a punta però vedendole ora sono molto eleganti secondo me un po' il tapping un po' il tapping facciamo un'altra mano la mano destra sembra un po' più tragica giustamente perchè la devo fare con la mano sinistra per te quindi tutto sto smalto ok se c'è qualche unica tecnica che mi segue non vi scandalizzate dai perdonatemi se faccio un po' schifo ma già penso ci siete abituati però comunque le mie unghie non sono mai state perfette quindi vuol dire che è riuscita a supportarne la vista però a volte o mi capitano dei commenti da parte di magari parrucchiere o comunque persone nel settore beauty o makeup artist stavolte soprattutto prima ma anche adesso che mi dicono no chiara quel mascara è messo malissimo quelle linee è messo malissimo o anche il contrario tipo oggi ti sei truccata particolarmente bene quella che so quell'ombretto verso così ti dona particolarmente ecco ci sono da entrambi i punti di vista non vi preoccupate non ricevo soli insulti però almeno non ricevo soli insulti tutto il nostro ambitestra non ho una fatica sulla mano destra e mia mano ad esempio ambitestra e però infatti riesce a mettersi lo smalto bene e sulle altre mani però ai suoi tempi si obbligavano i bambini a scrivere solo con la destra poveri tra l'altro c'è poveri mancini e e quindi lei ha imparato a scrivere solo con la destra oppure essendo ambitestra lo smalto si sta ancora asciugando ma comunque il tapping non lo posso fare e io vi ringrazio per aver guardato questo video per per avermi ascoltato fin qua se volete mettete le voci delle unghiette con lo smalto nei commenti e ci vediamo ci vediamo ci vediamo ci vediamo con il prossimo video e io penso proprio penso proprio penso proprio penso proprio ma penso proprio 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 si ha aggiunto l'ora di abbassare le luci e augurarti, augurarti, augurarti a te una buona, buona, buona notte buona notte sognitor, sognitor, sognitor goodnight, sweet dreams buenas notte, dulces sueños bonn nuit, bonn nuit, bonn nuit vete, io eây rêve goodnight good night 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 buonanotte miei piccoli ciapati un bacione un bacione un bacione grazie come sempre te rispero grazie grazie